C'è un'Italia, a mio avviso, demente, che non vede al di là della punta del naso del proprio interesse personale, mentre in tutto il mondo stanno accadendo cose veramente preoccupanti, catastrofiche, no, lui pensa al proprio interessuccio della punta del naso personale, oppure, chissà, volendo pensare male, oppure fa l'interesse di quelli che nel mondo vorrebbero rovesciare il calzino della democrazia o il calzino di una vita civile rispettosa delle diversità di ognuno da un punto di vista politico e religioso. Grazie a tutti.